Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di domenica 20 novembre 2022 come volevasi dimostrare l'accenno che vi avevo fatto per chi mi segue naturalmente ogni giorno ieri sul video del metodo per calcolare, per prevedere a livello statistico tramite indicatori la volatilità di bitcoin e in più particolare di tutto il comparto cripto vi avevo mostrato proprio le bande di Bollinger ma naturalmente in fondo al video vi lascerò la spiegazione e il link al collegamento del video dove spiego come prevedere la volatilità delle cripte di bitcoin andiamo subito a vedere che è avvenuto un movimento proprio oggi di una certa entità che andiamo subito naturalmente a visualizzare tramite date and price range vedete che dal ieri che avevano raggiunto i 1230 dollari circa oggi è sceso un picco di quasi 5,6% di crollo vedete la candela giornaliera non mente quindi praticamente il grafico dall'otto di aiutatemi del quando c'è stato praticamente il flesso ribadisco dovete andare a vedere il video di ieri quando spiego che cosa sono le bande di Bollinger la banda di Bollinger, Widow sia la larghezza della banda dall'otto di novembre fino al giorno 19 sono circa una dozzina di giorni oggi siamo al 20 anche se il bitcoin come potete osservare ha avuto un calo naturalmente molto meno sentito almeno al viello grafico potete accorgere che la discesa di bitcoin è stata solo dell'1,87% ecco la cifra sicuramente inferiore abbiamo visto su ethereum un crollo di 3,67% sicuramente più importante di bitcoin i valori del flusso netto in tutti gli exchange in questo momento nella giornata proprio di oggi è piatto non c'è praticamente nessun movimento in entrata e uscita e quindi il fatto che ci stiamo muovendo in questa direzione sicuramente è confermato dai flussi di mercato è considerato comunque che bitcoin, scusate che ethereum è sceso del 6% circa e quindi potrebbe andare a muoversi verso questa direzione naturalmente se volessimo andare a misurare anziché bitcoin con il discorso delle bande di bollinger e della larghezza di banda di bollinger notiamo che effettivamente in corrispondenza del flesso dell'8 di novembre siamo praticamente al 20 quindi 12 giorni ci è stato un avvicinamento verso questo minimo che è intorno ai 1000 quindi praticamente non vi sto dicendo che sia avverato la massima allargamento in corrispondenza di questi eventi che ribadisco dovete andare a visualizzare il video di ieri per avere la spiegazione di come individuare quando avverrà il fenomeno dell'allargamento della discesa o della salita del birish o del bullish pump of dump del sistema che state in questo momento visualizzando vi ricollego al precedente video di ieri ma sicuramente siamo in procinto di muoverci di nuovo verso questa direzione quindi a livello statistico abbiamo la conferma che il trend potrebbe realmente essere a livello probabilistico a livello statistico la maggiore probabilità che questo valore dei 1170 di circa in questo momento possa raggiungere veramente i 1080 che poi sarebbe il retest di questi valori e corrisponderebbe effettivamente alla tocco praticamente della massima ampiezza delle bande della parte larga di Bollinger dopo naturalmente la restrizione che è avvenuta proprio in questo corrispondenza di flesso vedete? termina naturalmente la lateralizzazione flesso quindi variazione con derivata terza diversa da zero parte il tutto e poi qui si comincia ad allargare e il massimo allargamento sta avvenendo proprio in questo frangente quindi mi raccomando ragazzi occhio alla situazione di Bitcoin e di Ethereum perché comunque a prescindere dalle caratteristiche tecniche di elevato valore compreso il proof of stake che vedremo se avrà valenza maggiore rispetto al proof of work di sicuro il prezzo è un'altra cosa e non c'entra nulla con le innovazioni tecnologiche delle criptovalute così come per Solana, Matic stanno anzi andando soprattutto Matic non Solana ma Matic sta andando molto bene quindi ragazzi attenzione naturalmente alla volatilità che si sta per pronunciare e la direzione del prezzo si è mossa sicuramente per Ethereum di più rispetto a Bitcoin nella direzione purtroppo della zona bearish questo aggiornamento finisce qui con un breve video di 5 minuti grazie ancora occhio al video della spiegazione di come prevedere la volatilità su Bitcoin e le criptovalute tramite il sistema Bollinger Bandwidth grazie a tutti grazie a tutti